ragazzi ho visto una canadese enorme qua sotto buongiorno benvenuti in questo nuovo video ragazzi oggi mi trovo a Robiei con questo bellissimo posto in Val Bavona e vediamo se esce qualche bel pescetto poi sono già stanco ho già fatto cinque minuti di camminata sono già morto a dopo anche sono venuti a prendermi grazie arrivo subito aspettami eh ragazzi allora eccoci qua qua c'è la vallata di Robiei con l'hotel là dietro e qui abbiamo il lago di Robiei e poi la sopra ci sono altri laghetti bellissimi ma oggi non li faremo perché ho poco tempo lassù potete vedere purtroppo quel che rimane il ghiacciaio il basolino purtroppo ragazzi queste temperature altissime stanno sciogliendo tutti i ghiacciai esattamente lì forse con la GoPro non si vede bene ovviamente perché siamo lontani ma vi assicuro che una volta qua era tutto ghiaccio quel vallone lì era tutto ghiaccio vabbè povero mondo eccolo là sopra il ghiacciaio è quello lì vedete adesso si è ridotto praticamente quasi tutto e rimane solo quella piccola punta bianca in cima prima scendeva fino alla valle fino a dove è tutto grigio dove inizia l'erba ah ci siamo ci siamo allora inizio spinning voglio subito vedere se c'è una qualche idea e poi magari proviamo con il rapala allora una tocca l'ho già sentita una tocchettina sentite una tocchettina timida ecco piccolina eh micro vabbè dai prima cattura una micro di ridea che rilasciamo subito bella ah la piccolina che è questa un'altra idea eh però ho azzeccato il colore micro sono abbastanza sul fondo eh ecco la ma qua siamo mangiati qua sotto ragazzi una canadese una canadese cazzo si finalmente 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 vai 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 sono in caccia ragazzi sono in caccia c'è 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 due due bella bellissimo bellissimo canadese col milio cazzo si sta registrando? porca vacca che sberla ragazzi 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 un altro caso un altro canadese un altro canadese questa qua è piccola però mi sa ragazzi questa giornata fantastica non ho parole questa giornata stupenda finisce qua sono riuscito a catturare finalmente la canadese la cercavo veramente da tantissimo tempo e ne ho trovate quattro ragazzi veramente una giornata indimenticabile potrei andare avanti ancora qualche ora ma io sono soddisfattissimo così e quindi lascio questo bellissimo posto sperando che anche la prossima volta mi regala qualche soddisfazione come oggi ma oggi è stata una giornata indimenticabile ragazzi veramente non posso che ringraziare la natura e voilà vi saluto non ho più altro da dire ciao a tutti ragazzi seguitemi al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.